Questo video riguarda i migliori 3 aspirapolvere a vapore. Il vincitore della qualità è il Polti Vaporetto. Sistema integrato di pulizia, pulitore a vapore e aspirapolvere con filtro ad acqua. Con 10 programmi automatici e 15 accessori in dotazione, per una pulizia completa e profonda di tutte le superfici. Con la funzione ECO, che imposta automaticamente il livello di vapore e di aspirazione, risparmi il 46% asterisco di energia e il 65% asterisco di acqua. La caldaia da 6 bar genera un vapore potente, ideale per pulire a fondo ed igienizzare tutte le superfici lavabili di casa senza dover utilizzare detergenti chimici. Il vapore di Polti Vaporetto l'Ecoaspira uccide ed elimina il 99,99% asterisco di virus, germi e batteri. Con gli accessori inclusi puoi pulire pavimenti, finestre, sanitari, imbottiti, fughe e molto altro. La tecnologia con filtro ad acqua permette di aspirare e trattenere le impurità, come polvere e pollini, nel secchio di raccolta, impedendone il ritorno nell'aria. 10 programmi automatici che impostano la giusta combinazione di vapore e aspirazione, a seconda della superficie da trattare. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Black & Ecker FS-MH1321. La scopa a vapore funziona dalla rete elettrica per garantire un'autonomia illimitata. Il suo tempo di riscaldamento è di 15 secondi e il cavo è lungo 6M. Ideale per la pulizia di pavimenti e varie superfici della tua casa approfitta della scopa a vapore Stimit con detergente per le mani e guanto in silicone per eliminare fino al 99,9% di batteri e altri germi presenti sui pavimenti e sulle superfici. Una soluzione di pulizia versatile grazie ai suoi 12 accessori l'articolo. Un prodotto ecologico e piacevole da usare la scopa a vapore Stimit con detergente per le mani e guanto, non richiede sostanze chimiche che possono avere effetti negativi sull'ambiente o sulla salute dell'utente. Una sfida, una casa, una soluzione. La gamma di pulizia Black & Ecker ti offre la soluzione ideale. I nostri aspirapolvere manuali per piccoli disastri. Il vincitore del premio è il Polti Vaporetto. Scopa vapore e pulitore portatile. Due prodotti in un per tutte le superfici lavabili di casa. Grazie alla duplice modalità scopa a vapore e pulitore portatile, permette di pulire fino a 15 superfici differenti. L'ampia superficie di erogazione del vapore, unita all'ottima flessibilità, permette di raggiungere anche gli spazi più difficili. In modalità pulitore a vapore portatile e con il kit accessori in dotazione puoi pulire ed igienizzare tante superfici diverse. Facile da manovrare e maneggevole, rende le pulizie più facili e veloci. Il vapore della scopa a vapore Polti Vaporetto uccide ed elimina il 99,9% asterisco di virus, germi e batteri. Il filtro anticalcare integrato nell'apparecchio consente l'utilizzo di semplice acqua di rubinetto. Secondo filtro può essere facilmente sostituito. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.